buongiorno sono maria di carbonarm oggi siamo qui per vedere insieme alcuni accessori carbonarm utilissimi per utilizzare le action cam tipo gopro similari i bracci sono già completi di impugnatura braccio flessibile e attacco luci finale il braccio flessibile permette di regolare velocemente in maniera assolutamente comoda la posizione dell'illuminatore all'interno del braccio abbiamo inserito un sagolino di sicurezza che permette di non perdere l'illuminatore in caso di urti accidentali questa configurazione è veramente molto maneggevole e consente un pratico utilizzo la staffa è dotata come potete vedere di varie asole quella centrale permette di fissare avanti e indietro la action cam che ha un attacco centrale e quindi consente anche di trovare il giusto bilanciamento in acqua le asole laterali invece sono più specifiche per l'utilizzo di custodie per fotocamere digitali compatte che normalmente hanno il doppio foro d'attacco queste asole oltre ad alleggerire la staffa permettono di poter agganciare dei moschittoni di sicurezza anche l'attacco degli illuminatori permette di utilizzare illuminatori di tipo diverso anche con diametro superiore a questo che vedete l'importante eventualmente è di utilizzare un o-ring magari con un diametro superiore questo tipo di abbraccio con l'attacco finale permette di utilizzare illuminatori che non abbiano un peso eccessivo perché diversamente il braccio non sarebbe in grado di sorreggerlo la stessa configurazione è disponibile anche con una staffa di dimensioni maggiori che permette di avere una maggiore stabilità durante la ripresa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti